Buona giornata amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Iniziamo una nuova giornata insieme ci inoltriamo verso la fine del mese di maggio, un mese molto perturbato, molto instabile per quanto riguarda la temperatura, vedremo dopo le previsioni del tempo di oggi. Abbiamo pronti i giornali sulla nostra scrivania, Corriere Adriatico e il resto del Carlino e allora procediamo subito con l'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi. E oggi eccolo il santo e san desiderio di Langres, visse tra il terzo e il quarto secolo. Sembra che sia un santo straniero, in realtà era nato a Genova, però fu vescovo della località di Langres, una città, un centro, un piccolo centro francese. Ebbene desiderio fu vescovo e cercò di salvare il suo popolo in modo particolare dalle violenze dei vandali che in quel momento avevano invaso la Francia, ma il loro capo che si chiamava Croco, anche se era cristiano, lo catturò, lo condannò a morte e lo decapitò. Per questo desiderio fu un martire, fu un martire che visse nei primordi dell'era cristiana, nell'era paleocristiana, così si chiama. Questo è san desiderio. E ora passiamo alle previsioni del tempo. Vediamo che il tempo insomma non è granché nella giornata di oggi. Abbiamo una condizione localmente instabile che diventerà ancora più instabile nel pomeriggio con possibili rovesci, rovesci sparsi e locali temporali di breve però durata. Le temperature si mantengono come quelle di ieri, 15 la minima, 23 la massima. A Fermo, giù nella bassa Marche, abbiamo un 14 e 23, lo stesso ad Ascoli Piceno, mentre ad Ancona, leggermente più alta, è la minima che è a 16 gradi. I venti, i venti sulle coste con una tensione media da est e sud-est, nell'interno invece da ovest e sud-ovest. Il mare è calmo, il sole è sorto alle 5 e 35 e tramonterà alle 20 e 33. Detto questo, possiamo aprire subito i giornali. Vediamo la pagina del resto del Carlino questa mattina. Lo vediamo qui nella prima pagina, se ce lo inquadra la regia. Eccola qua. Vediamo il titolo di apertura. Addio di vieti, acqua potabile sempre, così Aset lancia la sfida della siccità. È un articolo che riguarda l'inaugurazione di un nuovo impianto di potabilizzazione. Questa volta non si tratta dell'acqua del fiume Metauro, che è la principale sorgente di alimentazione degli acquedotti di Fano e di Pesaro, ma si tratta dell'acqua di falda, quell'acqua che c'è sotto il nostro territorio, che però è inquinata dai nitrati. Perché? Perché negli anni 60-70 si fece largo uso di concimi, di nitrati e quindi queste sostanze inquinanti caddero nel sottosuolo e inquinarono tutta la falda acquifera. Ma però che cosa ha fatto l'Aset? Ebbene ha realizzato un impianto di osmosi inversa nei pressi della cooperativa Tre Ponti. Siamo in aperta campagna. Ebbene qui l'acqua si depura. Un impianto costoso che erogherà 100 litri al secondo. Ed è un impianto che entrerà in funzione soltanto nei periodi di emergenza, dove la siccità perdurante potrebbe causare una grossa carenza di fonti di prelevamento dell'acqua e quindi di alimentazione degli acquedotti cittadini. Quindi un investimento importante. È stato inaugurato ieri dal presidente di Aset Paolo Reginelli, insieme al sindaco di Fano Massimo Seri e al presidente della provincia Giuseppe Paolini. Poi c'erano tante altre autorità e c'erano soprattutto i tecnici, quelli che hanno realizzato questo impianto, i tecnici dell'Aset. Vediamo le altre notizie. L'altra notizia di apertura sul resto del Carlino, vediamo un attimo se eccolo qua, sul resto del Carlino, che ci dà una cosa che prima poi, ci dà una notizia che prima poi doveva apparire sui giornali, ormai era scontata, quella della perdita ormai consacrata dei 20 milioni che lo Stato attraverso la regione avrebbe dato al comune di Fano per realizzare un miglior collegamento con Pesaro. Ebbene, questi 20 milioni sono stati persi e il comune deve anche restituire l'acconto già preso, aveva avuto 5 milioni dalla regione, gli aveva spesi anche per elaborare i progetti. Ora questi soldi devono essere restituiti alla regione. Il Ministero delle Infrastrutture ha revocato il finanziamento destinato alla variante degli interquartieri. Ora il comune dovrà attingere dal fondo di riserva 500 mila euro anticipati e ora reclamati dalla regione Marche. Insomma c'è un problema anche tra istituzioni che si penalizzano tra di loro e poi in realtà penalizzano anche la città di Fano. A questo proposito si può dire che un po' la responsabilità di questo problema va spalmata un po' su tutti. Innanzitutto sull'amministrazione comunale che non è riuscita a portare in porto questo progetto e poi anche all'opposizione che insomma ha frenato moltissimo per ragioni che per loro erano molto molto importanti, erano ragioni ambientali, però insomma non ha certo agevolato la fine di questo itinerario burocratico. Vediamo ora le altre notizie. A fondo pagina si dà l'annuncio della prossima città da giocare. Ormai è consolidata questa iniziativa nel mese di maggio che quest'anno compie, pensate, 30 anni. La città dei bambini fu realizzata 33 anni fa e dopo tre anni fu realizzata questa manifestazione che costituisce ormai un po' l'emblema di tutta la città dei bambini, di tutto il laboratorio città delle bambine e dei bambini. Perché? Perché il Comune allora decise di dare una delle principali vie di transito dei veicoli motorizzati della città, la Statale 16, che attraversa gli Alegramci ai bambini, chiuderla al traffico e regalarla ai bambini. Era un emblema, un emblema di principio che voleva dire che i bambini devono riconquistare i loro spazi gioco. Ed allora per 30 anni, salvo una piccola eccezione, quando la manifestazione fu spostata in zona mare, questa si realizza sempre su Viale Gramsci. Domenica prossima il traffico verrà sospeso su questa arteria dalle 8 del mattino fino alle 20 di sera e nel pomeriggio verrà realizzata questa grande area giochi a cui parteciperanno tantissime associazioni. Una 23-24 associazioni di carattere ludico, poi abbiamo le associazioni sportive e tanti tanti enti, oltre ovviamente alle scuole. Le scuole parteciperanno alla grande, abbiamo la scuola di Sant'Orso che insisterà sul ruolo della bicicletta per permettere ai bambini di muoversi in tranquillità, mentre i bambini della Corridoni si riapproprieranno dell'area ex Agipe che per la prima volta sarà sede di una manifestazione dopo che è stata così aperta al pubblico nella sua nuovo arredo e nella sua nuova funzione. Quindi segnatevi questo appuntamento sul calendario. Domenica la città da giocare su Viale Gramsci, quindi famiglie, bambini, tutti coloro che vogliono passare un pomeriggio sperando nel bel tempo. In caso di cattivo tempo tutto si sposterà al 16 giugno prossimo. Vediamo ancora un articolo a fondo pagina del resto del Carlino, lo vediamo, eccolo qua. Gradonata, ok, per giugno, ma la politica si scatena. Ci sono lavori a Sassonia, l'assessore Brunori precisa, non verranno finiti a settembre, ma verranno finiti entro la scadenza di questa tornata amministrativa. Vi ricordate il titolo che aveva fatto ieri il resto del Carlino? In realtà tutto è nella regola, ha precisato Brunori, e tutto verrà consegnato, verrà completato entro la scadenza, quindi entro il 10 giugno prossimo di questa amministrazione. Però la politica si scatena perché insomma appena trova una carenza, un problema, ovviamente lo rileva perché siamo in campagna elettorale e tutto viene posto in evidenza. Passiamo nell'entroterra. Ecco il giornale, passiamo nell'entroterra qui. Così Sant'Ippolito riavrà il suo teatrino, lo ha promesso Marco Marchetti, il sindaco che ritenta un nuovo incarico. È una delle priorità indicate dal sindaco uscente che corre per il secondo mandato, stavolta da solo e quindi non ha concorrenti. Un teatrino per Sant'Ippolito è importante come centro di aggregazione e anche centro culturale. Mentre la Caritas di Marotta apre un centro di ascolto. Eccolo qua, nell'articolo di Spalla. Apre un centro di ascolto, un nuovo servizio di assistenza nei locali della parrocchia di San Giuseppe. Volontari al lavoro per rispondere ai bisogni in modo particolare di coloro che hanno più bisogno. Il centro sarà aperto il lunedì dalle 17.30 alle 19 e il giovedì dalle 16 alle 18. E per contatti si può chiamare il numero 334 879 08673. Ebbene, questa è una bella iniziativa. Vediamo anche la campagna elettorale di Urbino sul turismo. Una programmazione triennale. Il candidato sindaco Federico Scaramucci, che rappresenta, che viene sostenuto dalla coalizione La Città che verrà, ha illustrato le sue strategie per il rilancio del settore turistico. E qual è l'obiettivo di Scaramucci? L'obiettivo è quello di raggiungere 100.000 arrivi annuali sulle territorie urbinate. Il nuovo modello di sviluppo, ha dichiarato, deve puntare di più sulla valorizzazione turistica. E Urbino ha tutte le opportunità con la sua ancora perdurante atmosfera rinascimentale e di grande centro culturale dei tempi passati, ma anche dei tempi attuali. Grazie appunto all'Università Carlo Bo, con cui Scaramucci vuole stabilire un contatto molto stretto e molto pregnante. Vediamo ancora quello che accade a Cagli. A Cagli c'è un grande investimento di marche multiservizi. Un nuovo sistema fognario, le marche multiservizi, vi investe 7 milioni di euro. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della Multi Utility, Mauro Tiviroli. Un intervento strategico, ha dichiarato, finanziato dalla struttura commissariale per il rifacimento della rete fognaria, che in quel momento, in questo momento, è molto degradata e quindi merita delle risposte radicali. E qui si rifà tutto da capo. 7 milioni, veramente, sono un grande, un grande investimento. Allora, diamo un'occhiata anche alla pagina di Pesaro, pubblicata dal resto del Carlino, dove abbiamo ampio, dove danno ampio risalto alla campagna elettorale. Vediamo il titolo di apertura, elezioni senza confini, più stranieri in lista. Sono 15, pensate, su 436 i candidati di origine non italiana. È un po' tutti i centri si aprono alla integrazione. Coloro che sono immigrati, che si sono stabiliti nel territorio, che hanno preso la cittadinanza e hanno preso la residenza, intendono anche loro collaborare al miglioramento della vita comune, ma anche alla bellezza della loro località. Sono dunque tanti i candidati, 15 su 436. È un primo piccolo nucleo, una piccola pattuglia che comunque è destinata ad allargarsi. E loro sono storie belle di riscatto e di impegno sociale. Quindi ci sono diverse forze politiche che hanno aperto le loro liste a coloro che sono di origine, non so, di origine croata, ma anche di origine nord-africana. E poi vediamo invece le polemiche, le accuse del Partito Democratico all'ex amico. Servizi sociali, bocca nera attacca, negligenza e incompetenza. Ebbene in questo caso abbiamo una presa di posizione dell'ex presidente della Gulliver, ideatore di Utopia, una bella manifestazione di carattere filosofico che a Pesaro incontra molti molti estimatori. Candidato con il centrodestra, usa parole di fuoco per quanto riguarda i servizi sociali, dunque il welfare. Il welfare lo geniscono bruciando solo risorse, danno i soldi alle cooperative e per loro è tutto risolto. In realtà non basta finanziare le cooperative, ma bisogna impegnarsi, ha detto appunto Bocca Nera in prima persona. E allora vediamo ancora quello che è accaduto, un incidente, un guasto ancora non è chiarito, per quanto riguarda il CUP, quello strumento a cui tutti sono obbligati di fare riferimento per prenotare delle visite. Ebbene CUP fuori uso, scatta la denuncia. Oggi l'attesa normalità, intanto sono state perse 30.000 chiamate. La Regione ha presentato un esposto alla Polizia Postale per un presunto attacco di un hacker. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, in Consiglio regionale, interroga per sapere veramente quello che è accaduto. Comunque è un disservizio del genere, anche se non intenzionale, anche se non addebitabile ad una carenza precisa. È capitato così un guasto meccanico, può sempre capitare, ha causato tanti tanti problemi. Vediamo ancora sulla pagina di Pesaro, eccolo qua, volevo farvi vedere questo articolo che riguarda una cronaca giudiziaria. Amori tossici, il processo. Lei incendia l'auto, lui la prende a morsi. Ebbene, una relazione molto turbolenta tra due persone e l'uomo è sotto accusa per lesioni. Il PM ha chiesto una condanna a sei mesi, ma l'udienza è stata aggiornata al 18 giugno. E tutto è stato scatenato da una forte gelosia, nutrita da lei questa volta nei confronti di lui. Tra i due c'era un rapporto sentimentale. Lui avrebbe voluto troncare questa relazione, ma lei non ne voleva sapere. Per cui sono nate le liti, i diverbi, ma anche questa volta le aggressioni. C'è stato appunto lui che ha preso a morsi, lei, e quindi insomma nella guancia, lasciandoci proprio il segno della marcatura dei denti. Va bene, e allora passiamo ora al Corriere Adriatico. Vediamo l'apertura sulla pagina di Fano, che è dedicata alla inaugurazione del nuovo impianto ad osmosi inversa, che è stato realizzato dall'Aset a Tre Ponti. Eccolo il titolo. La nuova riserva idrica per Fano, potabilizzata l'acqua della falda. L'impianto garantirà un flusso di 120 litri al secondo. L'Aset, rispondiamo alle richieste dell'estate. Al momento l'acqua c'è nelle nostre falde, c'è anche nelle nostre riserve, perché è piovuto, ma ormai il tempo è molto molto variabile. E da qualche mese di pioggia può succedere, come è accaduto anche nel 2023, lunghi periodi di siccità. E allora veramente questo nuovo impianto può essere prezioso per non restare all'asciutto. e quindi ben ha fatto l'Aset a realizzare questo nuovo sistema. E poi a fondo pagina invece abbiamo la replica di Barbara Brunori. Siccome lei non può parlare come assessore ai lavori pubblici, parla come candidata. Perché poi il problema del prolungarsi dei lavori pubblici nella stagione, nella buona stagione, è stato un tema molto molto dibattuto in campagna elettorale. Ci sono stati attacchi, difese e contrattacchi. In questo caso Barbara Brunori dice che le scadenze sono tutte rispettate e molti, molti lavori verranno conclusi entro il 10 giugno, ovvero entro la scadenza di questa amministrazione. E poi alcuni ovviamente verranno prolungati anche oltre l'estate, ma questo dipende anche dalle ditte che eseguono i lavori, per cui tutto è imponderabile per certi aspetti. Ambiente, cultura e digitalizzazione è la nostra visione dell'afano del futuro. Il Corriere Adriatico dedica anche attenzione alla presentazione della lista di un nuovo soggetto politico, ovvero la lista F, ovvero una città maiuscola più Europa. È una lista civica che è stata costituita dall'assessore alla cultura Cora Fattori per ripresentarsi al prossimo Consiglio Comunale. Ci sono molte priorità che vengono avanzate, per esempio Palazzo Marcolini dovrebbe essere adibito a laboratorio per i giovani e poi l'adeguamento di altre strutture, come San Francesco, la Corte Amala Testiana e ancora un parcheggio sotterraneo da 500 posti alla Paolini e poi ancora grande attenzione al potenziamento del SIC, ovvero del Sistema Informatico Comunale, dell'Ufficio Energia, dell'Ufficio Europa, che tanto utile si è rivelato per ottenere dei finanziamenti di carattere europeo. Però insomma molti in questo caso tutti dicono faremo, 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 pochi dicono con quali soldi e dove li prenderanno, soprattutto perché poi qualche capitolo resterà sguarnito per il trasferimento dei fondi da questa all'altra parte. Comunque sono belle queste priorità perché danno senso anche della sensibilità, della cultura, della programmazione degli stessi candidati verso questo o quel settore e quindi l'elettorato può farsi un'idea di dove si indirizza poi la prossima amministrazione comunale. Gale Gramsci, regno dei piccoli, sarà una strada tutta da giocare. Domenica fuori le auto dal tratto della statale e la grande festa compie 30 anni, 30 anni sono veramente tanti e fanno veramente insegna anche ad altre località ma anche ad altri paesi, ad altre nazioni come si inseriscono i bambini nella vita sociale e politica della città. Con la Costituzione del Consiglio Comunale dei Bambini che non è un qualcosa così di carattere formale, è in realtà qualcosa che ha inciso nella nostra città. Per esempio ha fatto dei progetti. Vi ricordate il progetto dei passeggi che ora ha l'attenzione dei tecnici per essere tradotto da una idea a un progetto esecutivo ma tutto è nato dalle indicazioni che hanno fatto i bambini, gli studenti delle scuole e i piccoli consiglieri comunali del Laboratorio Città dei Bambini. Quindi domenica grande festa su Viale Gramsci per famiglie e piccolini, grandi opportunità di gioco, ma anche un gioco di carattere didattico, un gioco che potrà anche insegnare qualcosa ai bambini, non è solo fine a se stesso. I giardini di Viale Cairoli, la variante in consiglio, ma in questo caso, per questo articolo a fondo pagina, siamo a Fossombrone. Siamo a Fossombrone dove il vice sindaco Michele Chiarabelli afferma che entro giugno verranno inaugurati i giardini di Viale Cairoli, completamente ristrutturati. Una riqualificazione di circa 300 mila euro. Si sono reso necessarie varianti per realizzare l'impianto di irrigazione e quello di illuminazione. Ecco perché si è tardato un pochino nel realizzare il tutto. A San Lorenzo invece abbiamo alla ribalta il sindaco Dell'Onti con la sua forza politica, perché Dell'Onti poi si ripresenta, dieci anni di buone pratiche, questo è il biglietto da visita, ha detto il sindaco. Dell'Onti presenta la sua squadra rinnovata con una grande attenzione per cultura e turismo. Ebbene, bisogna proseguire sulla strada di fornire i servizi, ha detto l'attuale sindaco, per quanto riguarda i provvedimenti sul lavoro, le infrastrutture, l'equità sociale, affinché le nuove famiglie e gli abitanti attuali possano vedere nella nostra comunità una fertile culla che li possa accogliere. Questa è un po' la sintesi della programmazione della lista Dell'Onti. Vediamo anche la pagina di Senigallia, dove una proposta di vietare il fumo in spiaggia trova molti molti sì e quindi viene accettata, ma viene accettata volontariamente dai concessionari di spiaggia perché non esiste una norma che lo vieti in maniera formale. Di vieto di fumo in spiaggia, pioggia di sì, ma non scaricate su di noi la decisione perché noi non possiamo obbligare i nostri clienti a non fumare in spiaggia, però possiamo sensibilizzare queste persone a non farlo perché poi buttare le cicche in spiaggia non solo si sporca la sabbia, ma può essere anche pericoloso perché poi se si butta la cicca accesa qualcuno la calpesta a piedi nudi e insomma la cosa non è certo ottimale. Ma siamo in conclusione, per cui non possiamo altro che terminare la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto e a risentirci.